bello a tutti compagni a cui il vostro chizzo che vi parla bentornati con un nuovo video oggi finalmente vi porto il primo video di battlefield one dove analizzeremo insieme tutte le novità trapelate da dice riguardante appunto questo titolo prima di tutto ci tengo a scusarmi se questo video arriva in ritardo ma come ben sapete sono stato male e ancora adesso sto un po male sto ancora facendo degli esami per sapere che cazzo io abbia non so se si dice così comunque vabbè ma oggi mi andava tantissimo di parlarvi di battlefield one essendo che è anche trapelato il trailer per quanto riguarda le armi di questo titolo e ho detto ma sì dai facciamo sto cavolo di video finalmente partiamo dal sito di battlefield one dove appunto si possono leggere le prime in descrizione come la guerra su scala epica vive la battaglia tra splendide coste italiane e infocate deserti arabi scopre la classica azione battlefield in un'entusiasmante campagna oppure partecipa a frenetiche battaglie molti giocatori per un massimo di 64 giocatori veramente la cosa più interessante da leggere è questa l'alba della guerra totale usa armamenti e i veicoli innovativi della prima guerra mondiale combattendo sulla terra in mare e in cielo dunque è sicuro al 90 per cento che ci saranno anche delle barche e se qua si vede un vascello potrebbe essere anche un veicolo da utilizzare la cosa che mi attrae di più è questo lascia il segno sul campo di battaglia con distruzioni devastanti voraggi nel terreno e colpi di artiglieria il che mi fa ben sperare il ritorno di una vera e propria distruzione globale del campo di battaglia non come in battlefield 4 che la distruttibilità era solamente su muretti alti tre centimetri finestre e basta spero davvero tanto che la distruttibilità non sia né troppo esagerata perché sennò veramente dopo dieci minuti di partita non c'è più nulla in piedi e prende combattiamo su un foglio di carta ma al contempo stesso spero che la distruttibilità sia davvero tanta magari col badile puoi proprio scavare una fossa dove poterti nascondere fare agguati o creare proprio delle vere e proprie trincee inoltre come si vede anche in una splash art che adesso sicuramente farà vedere in sovrimpressione si vede questo soldato che comunque è visibile anche durante il trailer di battlefield 1 che ha questo elmetto in testa e che un proiettile viene riflesso appunto sull'elmetto il che mi fa sperare che la classe tipo del supporto quella con i mitraglatori pesanti ovvero che sarebbe appunto la funzionalità di un tank sia più corazzato degli altri soldati in modo tale da permettere da essere usata come frontline da buttarsi in avanti prima di tutti il resto della propria squadra buttarsi in avanti reggere un paio di colpi e riuscendo magari a fare fuoco di soppressione e aiutare il proprio team sarebbe una cosa davvero geniale però non è ancora stato confermato l'unica cosa che è stata confermata che adesso vi faccio vedere con un'altra immagine in questo titolo ci saranno le maschere antigas che potrete indossarle quando vorrete ma mettendole dicono che cambierà non solo l'effetto audio che sarà più rimbombato ma anche la vostra visibilità cioè vedrete leggermente diverso passiamo a delle cose un po più interessanti battlefield 1 è il primo titolo che offre una collection edition per quanto riguarda battlefield il problema è che electronic arts ha avuto la bella idea di praticamente impostare una collection edition separata dal gioco ovvero la collection di battlefield 1 che contiene una statuetta una roba per i piccioni un mazzo di carte la steelbook una topa per una topa da mettere sui vestiti e un poster della propaganda verrà a costare in totale 200 euro qui in italia il problema che in questi 200 euro non è compreso il gioco ovvero voi dovete pagare altri 70 euro separatamente per acquistare il gioco ed è un po una fregatura adesso come state vedendo dell'immagine sono qua su origin oltre appunto a questa collection c'è anche la deluxe edition come c'era anche in battlefield 4 praticamente che si chiama hurley and lister prenotando il gioco riceverete il battle pack elf fighter che contiene il fucile a pompa da trincea la pistola m1911 il coltello e lo stem a bolo o in più otterrete l'accesso a una mappa gratuita una settimana prima dell'uscita ufficiale che dovrebbe venire a fine 2016 ma il motivo particolare perché sono in questa pagina appunto per la deluxe edition è perché se noi scendiamo vi fa vedere che otterrete inoltre 5 battle pack e già qua vi fa capire che c'è un sistema di pacchetti come appunto in battlefield 4 e in battlefield hardline tre skin per veicoli dunque ci sarà anche la personalizzazione dei veicoli in questo gioco poi ci saranno i due dsi ovvero il pacchetto barone rosso e laurens of arabia e inoltre perché non lo sapesse se prenotate appunto battlefield 1 avete accesso anticipato di tre giorni il gioco infatti uscirà il 21 ottobre 2016 ma prenotandolo lo riceverete il 18 parlando poi di altre notizie confermate dalla dice negli aerei come si sono visti nei trailer in alcuni si potrà salire in due persone uno piloterà l'aereo e uno sarà nella torretta posteriore contando anche che la dice ha ufficializzato che ieri in questo capitolo essendo molto più diciamo facilmente distruttibili avranno una modifica in base ai danni loro hanno fatto l'esempio che perdere un'ala qua già mi fa capire che hanno studiato molto di più il realismo in confronto a battlefield 4 e battlefield 3 battlefield hardline un'altra novità è che ci saranno le classiche modalità di battlefield più alcune nuove e io personalmente da già dal trailer quando si vede quella nave che spara e alcune splash art dove si vede una nave circondata da gommoni eccetera eccetera ho pensato che secondo me potrebbero rimettere la modalità che avevo introdotto nel dlc naval strike ovvero assalto porta aerei ovviamente qua non sarà una porta aerei ma sarà magari un vascello o una nave d'assalto ma comunque penso che la modalità sarà più o meno simile a quella spero più che altro un'altra cosa che la dice ha detto per anche tranquillizzare appunto la community che giustamente alcuni pensano che la prima guerra mondiale sia un po' noiosa ci sono mitrailletrici c'erano già le mitrailletrici a quell'epoca c'erano già i mitraioni c'era tutto insomma e infatti la dice ha ufficializzato che ci sono un totale di sei classi di armi vi faccio vedere qua adesso sono sul sito ufficiale di battlefield le armi di battlefield 1 infatti e c'è scritto 10 cose che dovete sapere sulle armi di battlefield 1 se voi andate a leggere io vi lascerò il link qui sotto in descrizione se volete passare vedete qua dice ci sono sei categorie di armi fucile a pompa, i mitra, le mitra elettrici leggere, i fucili semi automatici, le armi da fianco e i fucili di precisione ovviamente come i classici battlefield vogliono ci sarà un'enorme varietà come spiegano anche qua sul sito ogni categoria di armi è composta da numerosi modelli fra cui scegliere una cosa molto interessante che ho letto qua su questo sito sono queste due cose ovvero la personalizzazione delle armi è più mirata praticamente toglie molti accessori nel senso le armi saranno predefinite voi potrete personalizzare molto molto di meno confronto a battlefield 4 cioè ci sarà magari solamente il mirino magari solamente potete mettergli la baionetta solamente cambiare le... come si chiama? la canna eccetera eccetera sarà una personalizzazione molto molto basilare ma molto efficace inoltre c'è scritto che ogni arma dispone fino a tre configurazioni ovvero qua fa l'esempio volete un fucilio a pompa che infligge danni elevate o forse ti piacerebbe poter contare su maggiore precisione e diverse configurazioni predefinite delle armi faranno al caso tuo anche con queste configurazioni sono personalizzabili per esempio intervenire sullo zoom, sui mirini e sugli altri aspetti questa è un'altra cosa che approvo pienamente in un altro punto hanno detto che la modalità corpo a corpo è stata rivista da zero perciò i combattimenti corpo a corpo saranno nuovi di zecca e secondo me li avranno resi un po' nello stile medievale cioè proprio combatterai uno contro uno all'arma bianca non sarà come in battlefield 4 che è a coltelli e via e la cosa più interessante per quanto riguarda il corpo a corpo è l'innesco della baionetta perché qua appunto c'è scritto che potete innescare una baionetta sotto la propria arma e caricare verso i propri nemici uccidendoli con la vostra baionetta ed è una cosa interessante inoltre hanno annunciato che oltre alle granate normali ci saranno le granate a gas, le granate incendiare e altre granate che ancora non vogliono rilevare rivelare scusate comunque ragazzi infine tornando appunto sul sito di battlefield è stato annunciato da poco che il 12 giugno segnatevi bene questa data il 12 giugno verrà presentato il multiplayer di battlefield 1 infatti qua hanno lasciato battlefield squad votate per la squadra che preferite in poche parole due team che uno sarà composto da aspettate tombstone eccolo qua il team stone sarà conquistato da stone mountain diablo vardo jbq rechi miss non so come cazzo si chiamano spartan roster eccetera eccetera insomma questi qua sono tutti streamer o youtuber che trattano battlefield e contro ci sarà il team nibs che sarebbe bf noobs che sono quelli che hanno fatto la serie battlefield friends 1 e 1 2 ci sarà jackfrag level cap ci sarà doom io ovviamente tifo per loro perché c'è noob e engineer level cap jackfrag per me sono i migliori perché infatti il 12 giugno come vedete qua alle ore 23 vi dovete collegare su questo sito per vedere su twitch appunto in diretta la battlefield multiplayer ci sarà lo scontro tra queste due squadre niente questo è praticamente tutto quello che mi ricordo che hanno annunciato che mi sono segnato di dire tutto quanto tutto quello che dovevo dirvi su battlefield 1 ve l'ho detto spero che questo video vi sia piaciuto in tal caso vi lascio un bel mi piace e un commento dicendo a voi se state aspettando questo titolo cosa ne pensate se vi piace se non vi piace mi raccomando il 12 giugno connettetevi sul sito originale di battlefield per seguire lo streaming del multiplayer iscrivetevi al canale se ancora non lo siete passate dalla pagina facebook troverete sotto in descrizione come troverete anche l'estensione per google chrome e firefox e il canale di telegram per continuare a seguire io come al solito vi ringrazio di cuore per avermi seguito e noi ci vediamo con un prossimo video sempre by bad company italy iscrivetevi al canale